Si possono trovare oltre 40 opere italiane ed internazionali, con oltre 40 artisti provenienti da tutta Europa. È una mostra che i visitatori stessi l'hanno definita una delle più belle d'Italia, quindi è davvero un successo senza precedenti, anche per i commenti positivi che ha suscitato nei visitatori. Ci sarà tempo fino al prossimo 1 gennaio per visitare la Brick House Art, aperta al pubblico tutti i giorni per consentire a tutti i visitatori di poter ammirare la mostra in tutto il suo splendore. Tre piani di esposizioni, opere d'arte, mosaici, grandi installazioni e laboratori per un totale di 3 milioni di mattoncini presenti. Siamo molto contenti come ConfCommercio di averla riportata in questa sede bellissima, che è la Galleria d'Arte Contemporanea, in Piazza San Francesco, e speriamo che anche nei prossimi anni sia uno dei punti di riferimento di questa rezza città del Natale. Tante le novità di questa edizione, dall'Omino Lego più grande del mondo alla riproduzione del Titanic, fino alla città bianca del Signore degli Anelli. Ed ancora il villaggio di Natale da Guinness World Record, realizzato da Andrea Cortesi con oltre 400.000 mattoncini. Ha fatto oltre 5.000 presenze, quindi visitatori, quindi si conferma come una delle attrazioni più richiesta di questa città del Natale. Quest'anno per la prima volta anche Piazza Grande continuerà a brillare sino al 1 gennaio. resteranno invece in città fino al 7 gennaio il Prato delle Meraviglie e i mercatini in Piazza Saiacopo e Piazza Risorgimento. L'anno scorso, in quel periodo, abbiamo avuto sorprese, nel senso che abbiamo avuto grandi afflusse musei, abbiamo avuto comunque gente, comunque prenotazioni, quindi contiamo, confidiamo sul fatto che anche quest'anno prosega questa nuova tradizione, una volta Natale finiva quasi tutto, e negli ultimi due anni diciamo che è andata un po' diversamente e ovviamente siamo contenti.